Mi chiamo Alberto Bevilacqua, lavoro per BlackBerry e oggi volevo presentare il nostro nuovo BESS Express. Di cosa si tratta? È un prodotto che mantiene assolutamente tutte le caratteristiche del nostro BESS 5.0, un prodotto che abbiamo lanciato poco tempo fa e che serve tendenzialmente ad integrare tutte le applicazioni mobili aziendali con i nostri BlackBerry. Chiaramente l'applicazione mobile principe per la quale noi siamo anche molto famosi è l'email, ma non parliamo solo di mail, parliamo anche di sincronizzazione di calendario, sincronizzazione di rubrica aziendale, sincronizzazione di task, di attività, di note e più tutta una serie di disponibilità di piattaforme mobili per sincronizzare anche applicazioni altre esistenti all'interno dell'azienda, come ad esempio SAP, CRM, Salesforce Automation e tante altre. Oggi tutto questo potenziale viene portato a disposizione di una più ampia serie di clienti perché abbiamo deciso che una versione semplificata di questo software, pur mantenendo inalterate tutte le caratteristiche per l'utente finale, diventa gratuita. Dal primo marzo, in realtà non da oggi, quindi dal primo marzo, oggi siamo il 3 marzo, il software è disponibile sul nostro sito www.blackberry.com e chiunque abbia un server exchange oppure un server Microsoft Small & Medium Business può downloadarsi il BEST Express gratuitamente dal nostro sito. La differenza con il BEST principale, che rimane a pagamento, sta nel fatto che ha a disposizione 35 policy IT invece di più di 400 del BEST principale e chiaramente questa dimensione è stata creata per soddisfare le esigenze delle piccole e medie aziende italiane che spesso non hanno un IT manager o addirittura una struttura IT molto articolata che può gestire 400 policy IT ma semplicemente in genere una o due persone che seguono il reparto informatica e che possono benissimo occuparsi di gestire in maniera sicuramente molto efficace un numero limitato di policy IT pur mantenendo per gli utenti finali tutte le funzioni e funzionalità che hanno fatto del BEST la soluzione più venduta, più sicura e migliore a livello mondiale per la mobilizzazione di applicazioni in ambito enterprise.